Musica Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo unissimo video, io sono Brrrrrrrrrr E' il 94, ok ragazzi, oggi è 25 ottobre 2016, praticamente è martedì E oggi si porta la grande serie delle sponsorizzazioni ragazzi Ebbene si ragazzi Sponsorizzazioni per me è un tema molto importante Perché per me significa molto Dovete sapere che a me piace aiutare I canali più piccoli E anche i canali più grandi Ma non è perché lo faccio perché voglio avere visual Non me ne fego un cazzo Io lo faccio perché voglio aiutare Poi Youtube adesso sto andando così Praticamente bisogna aiutarsi a vicenda Per portare a crescere Ok Ora partiamo subito Allora il primo canale che voglio sponsorizzare E Ragazzi non è che mi ricordo a memoria Devo andare a Secondo dei video che io faccio Vabbè qua eh Allora Il canale che dobbiamo sponsorizzare adesso Si chiama Praticamente Ora ve lo faccio vedere Si chiama I Vals Lui vedete mi ha scritto Blue Ace Hashtag Blue Ace Sponsorizzami Allora Andiamo a vedere Allora I Vals Lui mi ha chiesto di essere sponsorizzato E io lo faccio subito Praticamente lui ha 52 iscritti Più che lui sono loro Loro si intendono più che altro di vlog Obbligo challenge Fanno video a settimana Sono belle A me fanno ridere Sono simpatici Come informazioni generali Abbiamo 1216 visualizzazioni E 52 iscritti Come ho detto prima Quello è il consiglio che posso darvi Fate più video Perché Dovete comunque crash Non è che voi potete stare fermi A settimana a settimana Dovete comunque crash Vabbè ovvio Che serve degli impegni Comunque Loro mettono gli iscritti E andate a vedere Perché Comunque è un bel canale L'altro invece Che dobbiamo sponsorizzare Allora L'altro è Giampaolo 612 Mi ha chiesto lo stesso Di essere sponsorizzato Però Giampaolo Mi dovevi scrivere Bluway Sponsorizzami Non solo sponsorizzati Vabbè Fa niente Allora Lui Giampaolo 612 Ha 120 iscritti E vediamo che giochi tratta Allora Lui tratta giochi di minecraft Fa domande Risponde alle domande Sponsor time Minecraft Clash Royale E Water battle Fa video buoni A me piace Un bel canale Lui C'ha 939 visualizzazioni E 120 iscritti Andate a vedere Il suo canale Perché Pure lui Merita Alla fine Tutti quanti Meritano Nei canali Poi Vediamo Un altro Che voglio sponsorizzare Vediamo un po' Allora Allora Un altro Che voglio sponsorizzare È Melo 40 Melo 46 Ha 244 iscritti E L'intro La banner Mi piace Lui praticamente Tratta Più che altro Di minecraft Happy Wheels Minecraft Insomma Lui Si dedica Più che altro A minecraft Happy Wheels È un Una bravissima Persona Insomma Ragazzi Tutte le persone Che sono sponsorizzate Sono delle bravi persone Non è che voglio dire Se la meritano Lui Lui c'ha 2441 Visualizzazioni E ha Sennò Quasi Quasi 300 iscritti Lui ce la Può fare Cioè Tutti voi ce la potete fare Un altro canale Che voglio sponsorizzare È Francio 89 Francio 89 Lui c'ha 60 iscritti E Si dedica Ai video Di minecraft Però Lui Ha fatto solo Due video Uno è il ritorno E l'altro Le sponsorizzazioni Tengo a precisare Che Francio 89 Mi ha sponsorizzato Quindi perciò Troverete il video Delle sponsorizzazioni Che lui ha sponsorizzato Sia a me Che mio fratello E per questo Mi dico Nelamente grazie Perché comunque L'ha fatto Di sua spontanea volontà Quindi Aiutatelo Deve crescere pure lui Io l'unica cosa Che vi chiedo Ragazzi Che È vero Che io vi sto sponsorizzando Che sto facendo io Le mie puntate Però Desidero molte volte Che mi sponsorizzate Anche voi Perché Non è che devo fare Sempre io il passo Che devo sponsorizzare E poi gli altri Non mi sponsorizzano Ovvio che se qualcuno Lo vuole fare Lo fa Io non metto nessuno Colterà la gola Però Almeno Diciamo Il pensiero Riescere Vabbè Lui mi ha sponsorizzato Ma cazzo Lo sponsorizzo pure io Giusto così per Visto in considerato Che bisogna aiutarsi A vicenda Almeno un minimo Ci deve essere Allora Quello che dobbiamo sponsorizzare È questo qua Lui praticamente Lui si chiama DJ Slash DJ Slash Non ho capito Quanti iscritti C'ha Però comunque Molto bravo Cioè Simpatico Fa video su Minecraft Come diventare famosi Su Instagram Mafia 3 Bel titolo Mafia 3 Un po' di vlog Insomma Fa un po' di tutto Basti pensare che Solo le visualizzazioni C'ha 45.254 visualizzazioni Non so quanti iscritti C'hai Però comunque Andate a vedere il suo canale Perché È un tipo come me Diciamo Che a lui piace Sponsorizzare le persone E di conseguenza Lui Ci fa anche sponsorizzare Andate a vedere il suo canale Perché a lui Aiuta È un tipo come me Quindi Stima per tutti quanti Non è solo per lui Per tutti quanti Un altro canale Che dobbiamo sponsorizzare È Coni di Greg Lei siccome È una ragazza Molto Simpatica Non peraltro Non peraltro Mia madre È una tipa che Quando Va a vedere comunque I video No I video suoi Mia madre Lo trova simpatica Ma anche io La trovo simpatica Comunque fa dei bei video Perciò Andate a vedere il suo canale Perché Anche lei Merita molto E Vediamo un po' Giusto per curiosità Allora Lei ha 332 iscritti Tratta di video Diciamo Sulla bellezza Cosmetici Roba Femminili Scarpe Un po' Di tutto E devo dire Che c'è una bella qualità Dei video C'è insomma È una brava Una brava persona Una brava ragazza Proprio C'ha 6307 visualizzazioni E come ho detto prima 332 Iscritti Andate a vedere Il suo canale Poi ovviamente Metterò I link Dei canali Giù In descrizione Vediamo Un altro canale Che voglio sponsorizzare Un altro canale Che voglio sponsorizzare È questa Lucy Dolce Pandina Allora Lucy Dolce Pandina L'ho scoperta ieri Per caso Andando a controllare Dei video E mi è uscita Tra le notifiche Consigliati Proprio lei Io sono andato a vedere Comunque Fa video Veramente molto belli C'ha 516 iscritti Diciamo che Si sposa Cioè È uguale L'identico Argomento Che tratta Connie di Greg C'è roba di cosmetici Backup Vlog Ha fatto anche una challenge Con il suo fratello Insomma ragazzi A parte che c'è una bella qualità Fui comunque È molto brava Cioè se li merita Di essere guardata Sponsorizzata Quindi perciò Ha 33.208 visualizzazioni E 516 iscritti Che ti devo dire Io ti dico Grazie per aver commentato Il mio video Non so se li hai commentato Sì Penso di sì Che li hai commentato Non mi va di neve Sì 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 L'hai commentato Sì scusami Che ti devo dire Io penso che comunque Allora ragazzi Tutti i video Che io ho sponsorizzato Io penso che potranno Crescere Arrivare All'obiettivo mio Cioè Quello di diventare grandi Far divertire le persone Questo è il mio obiettivo Semplicemente Cioè insomma Lo è per tutto Per chi sta su youtube Lo è per tutti Vediamo un altro canale Che voglio sponsorizzare E poi ho finito Con le sponsorizzazioni È questo Allora Lui si chiama Nel cowboy La Luke Praticamente Questo Questo canale Io appunto L'ho scoperto Ieri per caso Che stavo andando a guardare Un video E l'ho trovato sotto Nei commenti In cui chiedeva Di essere sponsorizzato Allora io cosa ho fatto Ho detto Vabbè dai se lo merito Mi sono consigliato Che fa giochi Che piacciono a me Tipo giochi retro A me piacciono assai I giochi retro In maniera assurda Mi piacciono assai Non posso farne almeno Cioè io Infatti io farò Pokemon Con Pokemon Rosso Distorto Con mio fratello Che a me piace assai Veramente Insomma lui fa Giochi retro Ed è proprio bravo Ti sto dando La prova Che comunque Sono una persona attiva Quindi Hai 12.224 Visualizzazioni Non so Quanti iscritti C'hai Questo te lo posso dire Non so Quanti iscritti C'hai Non riesco a vedere Comunque ragazzi Le sponsorizzazioni Sono finite Quello che invito A fare È questo Non voglio essere Un rompipale di turno Voglio solo Dire Che è vero Che io sto sponsorizzando Però Se avete un po' di tempo Non dico Che mi dovete fare Il papiro lungo Per dire Andate questo Andate a guardare No Funziona così State facendo Il vostro video Perfetto Prima di cominciare A giocare I vostri video Dite Andate a vedere Il canale Di Blue Ace 94 Fate vedere Giustamente La mia immagine Del canale E poi Vi riprendete a giocare Tanto che vi costa Solamente una parola Anzi O meglio Due parole Blue Ace 94 Andate a vedere Perché ragazzi Io vi aiuto Con tutto il cuore Sono il primo Ad aiutare Però vorrei essere aiutato Anch'io Cioè Non per altro Io ho mostro Cominciando a vedere Diciamo Scintille Monete Non vedo ancora un cazzo Non vedo ancora niente di soldi Cioè Non vedo niente Io ho mostro Cominciando a vedere Diciamo Il canale Che sta cominciando a crescere Sono 196 iscritti Ragazzi Poi a 200 Io farò un video Veramente Farò un video Veramente Bellissimo Farò E spero di Poter crescere Insieme a voi Io vi ringrazio Per il supporto Se Volete essere sponsorizzati Sapete come dovete fare Hashtag Blue Sponsorizzami E che dire ragazzi Ci vediamo La prossima settimana Perché Adesso Martedì È Concluso Quindi se ne parlerà Martedì prossimo Con la serie Delle sponsorizzazioni Va bene Spero di essere stato Abbastanza chiaro Spero Di aver fatto piacere A tutti voi Di essere sponsorizzati E che dire Continuate a seguirmi Mettete tanti mi piace E Fatemi sapere nei commenti Se devo migliorare qualcosa Ovvio che devo Assolutamente migliorare qualcosa Dovrei comprarmi Un fottuto pc E dove comprarmi Anche un bel microfono Perché Mi serve Comunque ragazzi All'interno di queste cose Ce la vediamo Al prossimo video